Il Manchester United vuole prendere Pavard per sostituire Maguire Perlomeno è questa la notizia che sta circolando in queste ore Se fate parte del mio gruppo Telegram, vi lascio il link in descrizione Conoscete già un po' il mio pensiero Reputavo e reputo tuttora questa operazione un po' insensata Perché vai a cedere un difensore centrale per prendere un terzino a destro Per poi adattarlo a difensore centrale Però lo sapete come sono fatto Non sono il tipo che parla senza aver analizzato bene la situazione Quindi questa mattina ho speso un po' del mio tempo per studiare Pavard E oggi sono qui per mostrare a tutti voi cosa ho imparato su Pavard E soprattutto ho capito perché Tenag vuole comprare Pavard Prima di iniziare ovviamente vi invito ad iscrivervi al canale E attivare la campanella Ma soprattutto lasciate like a questo video Se raggiungiamo i 30 mi piace farò uscire l'analisi su Todibo Ieri sera già ho scritto qualcosina E in questi giorni vorrei proprio pubblicare l'analisi Anche perché in questo momento è l'uomo mercato Ci sono parecchie squadre che lo vogliono prendere E posso capire che molti di voi non lo conoscono Perché non guardano la Ligan Quindi lasciate like e qua sotto nei commenti se volete Scrivete il prossimo calciatore che dovrò analizzare Ovviamente nomi interessanti eh Comprendete giocatori che conoscono praticamente tutti Ora vi auguro una buona visione Pavard come detto in precedenza Nasce come terzino destro Infatti sono 146 le partite giocate da terzino destro Ma bisogna sottolineare che sono 109 le partite disputate da difensore centrale Avete capito bene? Pavard ha giocato 109 volte da difensore centrale E non è poco Se contiamo che lui a livello di club nel complessivo ha totalizzato 276 presenze Quindi quasi la metà delle presenze che lui ha fatto nella sua carriera Le ha disputate da difensore centrale Poi sì Se andiamo a guardare Ha giocato qualche volta anche da centrocampista Da terzino sinistro Però sono poche le presenze Se consideriamo i dati citati prima Quindi Quello che vi ho appena detto Vi fa capire una cosa molto molto importante Pavard non nasce difensore centrale Ma ormai lo è diventato Perché le partite giocate da difensore centrale sono parecchie E quindi ora che avete capito un po' chi è Pavard Vi devo spiegare quali sono i lati positivi e i lati negativi di questo calciatore Partiamo proprio dai lati negativi Ovviamente in ottica difensore centrale Perché se lo United lo prende, lo prende per giocare in quel ruolo lì Il primo lato negativo ovviamente è l'altezza Pavard è alto un metro e 86 E per un terzino destro va benissimo Anche perché non conta tanto l'altezza da terzino Ma da difensore centrale questo è un problema Perché se dobbiamo pensare a lui messo difensore centrale Con a fianco Lisandro Martinez Beh, nasce un grosso problema Soprattutto nei calci piazzati Dove l'altezza fa da padrone Il secondo lato negativo E vi posso dire anche ultimo È la sua spinta offensiva E voi direte Ma come Jarno? Un difensore che si spinge in avanti Nel gioco di Tenag Va bene Sì, è vero Va bene Ma non possono essere tutti così Pavard Lo ripeto nuovamente Non è un difensore centrale È un terzino Che è stato spostato difensore centrale Quindi il suo istinto Di spingersi in avanti Come fa un terzino Gli è rimasto E infatti molte volte Tende a spingersi in avanti E questo può essere un problema Soprattutto in fase di recupero Della posizione Perché se hai Lisandro Martinez in campo Che si spinge in avanti Hai Pavard Che anche lui Si spinge in avanti O Nana Che comunque sia sale Se in fase di possesso Sbagli un passaggio E parte il contropiede Della squadra avversaria Puoi farti il segno della croce Perché lì puoi recuperare Sarà veramente difficile Soprattutto contro squadre Come Liverpool Che puntano tanto Sulla progressione Palla al piede E sulla velocità degli esterni Quindi come detto in precedenza Questi sono gli unici Due lati negativi Che ho trovato su Pavard Messo difensore centrale Ora passiamo Ai lati positivi Di questo calciatore Il primo lato Positivo Ovviamente È la sua qualità Nei passaggi È un giocatore Che prova E soprattutto riesce A fare passaggi Molto molto difficili Che aiutano La costruzione Della manovra offensiva Proviamo a confrontare Pavard E Varane Come potete vedere I passaggi di Pavard Tendono ad aiutare La manovra offensiva Quelli di Varane no Anzi Molte volte Abbiamo visto Il difensore francese Ex Real Madrid Commettere degli errori In fase di costruzione Gravissimi Perché qualche volta Prova dei passaggi Che non riesce a fare E quindi Regala il pallone Agli avversari Se prima Abbiamo parlato Dei problemi Dei lati negativi Della coppia Alessandro Pavard Ora bisogna parlare Dei lati positivi Di questa coppia Perché con Alessandro E Pavard La nostra costruzione Della manovra Aumenta Di qualità In maniera notevole Perché entrambi Commettono Pochi errori A livello di Passaggio Di costruzione Un altro Lato positivo È la fase Realizzativa Pavard Nella sua carriera Ha realizzato 7 gol E 11 assist Da terzino destro E sono tanti ragazzi Sono tanti E 7 gol E 3 assist Da difensore centrale Riesce ad avere Questi numeri Anche se Gioca dietro Perché ha Grandi Doti Tecniche E quindi Ogni tanto Si può permettere Di tirare Da fuori aria Di provare Il tiro al volo Per esempio Molti di voi Si ricorderanno Il gol segnato Con la Francia Contro l'Argentina Ma non solo quello Sono tanti I gol Segnati Da Pavard Grazie alla sua Tecnica Un ulteriore Dato positivo Che mi ha sorpreso Parecchio Quando ho iniziato Ad analizzare Il calciatore È la sua dote Palla al piede Ne abbiamo parlato Anche nell'ultima analisi Su Ambra Bat Tenag Cerca Sempre Quel profilo Che è bravo Palla al piede Perché nella manovra Nell'idea Di calcio Di Tenag I giocatori Devono Devono Rischiare la giocata Devono provare Qualche volta L'uno contro uno In maniera anche Pericolosa Per cercare Di velocizzare La manovra E Pavard E Pavard È uno di questi Il difensore francese In fase di possesso Riesce con estrema facilità A liberarsi Della pressione Avversaria E combinando Questa sua qualità Nel possesso Palla E la sua grande Dote Nel passaggio Abbiamo praticamente Un regista Messo Difensore L'ultimo dato Non per importanza È la sua dote Difensiva Perché va sempre Precisata Ok parliamo Di un giocatore Che è conosciuto Perché tutti Conoscono Pavard Ma la sua dote Difensiva Per me È molto sottovalutata Perché io In primis Reputavo Pavard Un giocatore Non bravo Nella fase difensiva Invece Come potete vedere Lui è bravissimo Non solo Nei contrasti a terra Ma è bravissimo Anche nelle intercettazioni Nei blocchi difensivi Pecca Ovviamente Nei duelli aerei Ma perché parliamo Di un ragazzo Al 1,86 Che per il calcio Non moderno Non può giocare Difensore centrale Quindi ora che vi ho dato Un po' un'infarinata Vi ho raccontato Vi ho spiegato I lati positivi Di questo ragazzo E i lati negativi È il momento Di passare Al rettangolo di gioco Come può scendere in campo Il Manchester United Con un Pavard in più Partiamo Dal modulo Che tanti tifosi Lo United Sperano di vedere Io personalmente Mi auguro che ciò Non succeda 4-2-3-1 Che è il modulo base Di Eric Tenag Con Pavard Difensore centrale A fianco a Lisandro Martinez Beh In fase di costruzione Questo 4-2-3-1 Si trasforma In una sorta Di 3-5-2 Se così possiamo chiamarlo Un po' strano Quindi come detto in precedenza La difesa 4-3-1-2-3 E Pavard va a fare Il braccetto di destra Coscio che va a fare Il braccetto di sinistra E Lisandro Martinez Il difensore centrale Che cerca di impostare Questa idea A me mette Veramente tanta paura Perché avresti 3 difensori Molto bassi Che sicuramente Non ti aiutano Nei calci piazzati Ma non ti aiutano Neanche nelle palle lunghe Perché nel momento In cui incontri Squadre come il Newcastle Squadre come il Liverpool Ma anche contro Ma anche come il Manchester City Hai delle difficoltà troci Perché quando Ederson Pop O Alisson Vanno a lanciare lungo Per cercare la punta Di riferimento Isaac Nunez E Oland Tu non hai Il difensore Che possa andare addosso A questo numero 9 Che possa un po' Bloccare la ripartenza Il che è un problema È un problema Quindi non pensate minimamente Che Pavard Possa fare il centrale Perché in fase di costruzione Lo United Diventa sempre Una Trasforma sempre La difesa 4 Ad una difesa 3 Non può Pavard Far parte Del tridente difensivo Non può Ok il calcio moderno Ok che conta tanto Ora la costruzione Ma bisogna mantenere Le basi nel calcio Non puoi avere Tre centrali Uno più basso Dell'altro Però c'è una seconda idea Perlomeno questa è quella Che ho pensato io Che per me è quella migliore Sempre Il 4-2-3-1 Classico di Eric Tenag Ma questa volta Con Pavard Messo terzino destro Vi ricordate che Un paio di giorni fa Vi ho parlato Del grave problema Che ha lo United In fase di costruzione Con la fascia difensiva Di destra E con Pavard Questo problema Lo elimini Ve l'ho detto in precedenza Pavard è un giocatore Bravissimo In costruzione È bravissimo A passare la palla E soprattutto È bravo a provare L'uno contro uno È bravo a vincere Nell'uno contro uno L'errore che ha fatto Dalò Contro il Lenz Pavard Non te lo fa Quindi 4-2-3-1 Con Pavard Terzino destro Show Terzino sinistro Lissandro Varane Difensori centrali In fase di costruzione Lo United Passa la difesa 4 Alla difesa 3 Ma questa volta Con una grande differenza Perché Lissandro Va a fare Il braccetto di sinistra Pavard Va a fare Il braccetto di destra E Varane Va a fare Il perno Della difesa L'uomo Che va a marcare Il numero 9 L'attaccante Riferimento Della squadra avversaria Con Show Che va ad accentrarsi Va a giocare Con i centrocampisti Va a dare sostegno Come faceva ai tempi All'Ajax Tagliafico Questa per me È l'opzione migliore Non posso vedere Pavard Difensore centrale Affiancato Alessandro Pavard Non può giocare Insieme a Lissandro Martinez Può giocare Affianco a Lindelof O a Varane Ma Lissandro Non può giocare Con Pavard Quindi se noi Andiamo ad investire Dei soldi Perché comunque sia Lo sapete Durante le analisi Alla fine di questa analisi Parliamo anche del prezzo Il Bayern Monaco Non si libera del giocatore Per meno di 30 milioni Io vi dico Ce lo regalano Perché è un regalo 30 milioni Per un giocatore Con certe caratteristiche Ma queste caratteristiche Vanno poi Utilizzate Al meglio Non basta prenderlo Metterlo difensore centrale E funziona tutto Se l'idea è quella di Prendere Pavard Per fare la coppia Lissandro Varane Lindelof Pavard Allora posso essere d'accordo Ma se andiamo a prendere Pavard Per provare ad impostare a tre Con Lissandro e Pavard In campo Nello stesso momento Mi dispiace Ma non è una cosa Fattibile Levatevelo Dalla testa Non c'è un dato Non c'è una statistica Che va a favore Di questa operazione Messa come la mette la gente Non c'è Se l'idea È quella Come vi ho detto in precedenza Di giocare con due Coppie di centrali diverse Quindi Lavorare Lissandro Varane Per cavoli loro E lavorare con Pavard Dell'Indelof Per cavoli loro Perché ti formano due coppie Allora sì Siamo tutti d'accordo Oppure Provare a fare Il 4-2-3-1 Con Pavard Messo a destra Terzino destro Allora lì sono d'accordo Metterlo Dal primo minuto Insieme a Lissandro È un suicidio sportivo Non è un'operazione da fare Si è vista in quella maniera Dopo è ovvio Che il giocatore Ti dà tante 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 idee Perché lo puoi mettere Anche a sinistra Cioè nel momento In cui Che ne so Succede qualcosa A Varane Come è successo L'anno scorso E Tenag Ha inserito Show difensore centrale Tu puoi prendere Pavard E spostarlo a sinistra Un momento Che hai dei problemi A destra Perché Wan-Bissaka Non sta al 100% Dalò Fa le sue cavolate Prendi Pavard Lo metti a destra Oppure Lo puoi addirittura Provare a centrocampo Perché ha le qualità Da centrocampista Ve l'ho detto in precedenza Le qualità che ha Luchi Sono qualità da centrocampista Non sono qualità da terzino Poi nel calcio moderno Tanti giocatori Con un'estrema qualità Palla al piede Tendono a fare Gli esterni Difensivi e offensivi Perché nel calcio moderno Serve quel esterno Che vada A cercare La palla Che si accendra Che fraseggia Però Ti può dare anche Quest'opportunità Da centrocampista Come ai tempi Faceva Alaba Con il Bayer Monaco E' proprio per questo Che io chiedo Alaba E non Pavard E non Totipo Ma capisco che Tenag Voglia Prendere un giocatore Non tanto vecchio Che non chieda Un ingaggio faraonico E che abbia E che abbia un po' D'esperienza Alaba per me Rappresentava L'uomo giusto Un difensore centrale Che poteva andare a sinistra Poteva fare il mediano Era perfetto Con una certa esperienza Ma ripeto Capisco che non è Un'operazione facile Nei prossimi giorni Uscirà invece L'analisi Su Todiboh E già vi Spoiler Credo che Todiboh Per me La scelta Migliore E' molto Molto sottovalautato Perché Todiboh E' l'evoluzione Di Varane Ve lo dico in maniera Molto chiara Capisco che tante persone Non lo reputano Un giocatore di livello Perché non vedono La Liga Ma le partite Vanno viste Per giudicare Un giocatore Quindi nei prossimi giorni Aspettatevi un bel video Analisi Su Todiboh Qua sotto nei commenti Vi ripeto Fatemi sapere Ditemi altri giocatori Da analizzare Io ho detto tutto Quello che dovevo dire Spero vi sia piaciuto il video E alla prossima gente